Il tumore del retto, nella maggior parte dei casi, si sviluppa da una proliferazione non controllata delle cellule della mucosa, cioè dello strato più interno dell'organo. Quest'ultima è a contatto con le feci e quindi sottoposta a stress chimico-fisici. Quasi sempre il tumore del retto è una conseguenza di una degenerazione di lesioni benigne, polipoidi, per cui c'è sempre la sequenza polipo-cancro. Il cancro del retto, così come il cancro del colon, interessa prevalentemente una popolazione adulta con un'età superiore ai 50 anni, in più del 90% dei casi. In Italia vengono diagnosticati circa 50.000 nuovi casi per anno e rappresenta la seconda causa di tumore nel sesso femminile dopo il tumore della mammella, mentre si colloca al terzo posto dopo prostate e polmone nel sesso maschile. Tra i fattori di rischio dobbiamo considerare l'età, in quanto più del 90% dei pazienti ha un'età superiore ai 50 anni. Una storia medica personale caratterizzata da malattie infiammatorie croniche dell'intestino, quali il morbo di crone e soprattutto l'arretto colite ulcerosa. Importanza va data anche allo stile di vita e alla dieta. Sovrappeso, abuso di alcolici, scarsa attività fisica e per quanto riguarda la dieta, un eccessivo introito di carni rosse, farine e zuccheri raffinati, grassi soprattutto di origine animale, sono fattori di rischio per lo sviluppo del tumore del retto. Nella maggior parte dei casi il tumore del retto si presenta come tumore solitario, senza che vi siano particolari correlazioni con sindrome genetiche o storie familiari. La presenza di un cancro del retto o di un polipo del retto nei parenti di primo o secondo grado aumenta il rischio di sviluppare un tumore del retto. Vi sono poi delle vere e proprie sindrome ereditarie. Possiamo fare alcuni esempi come la poliposi familiare, la sindrome di Lynch, la sindrome di Gardner o Turcot. In questi casi si ereditano dei polipi del colon e del retto che se non trattati precocemente possono degenerare e diventare carcinomi. Il tumore del retto, soprattutto negli stadi iniziali, può essere completamente asintomatico. La comparsa dei sintomi è legata alla sede e alle dimensioni del tumore e i sintomi più frequenti sono un cambiamento delle abitudini dell'alvo, quindi la comparsa o di diarrea o di stitichezza. La presenza di sangue, generalmente rosso vivo nelle feci. Sintomi più tardivi sono il dolore locale e la sensazione di una mancata e completa evacuazione dell'alvo. Il primo obiettivo è sicuramente quello di arrivare ad una diagnosi precoce, per cui è di fondamentale importanza aderire al programma di screening che è obbligatorio per i soggetti con un'età superiore ai 50 anni. La ricerca del sangue occulto nelle feci è il test di screening e nel caso sia positivo impone la necessità di un'indagine diagnostica mediante colonoscopia. La colonoscopia è l'esame che porta alla diagnosi della neoplasia anche in presenza di sintomi specifici. Si tratta di una procedura che consiste nell'ispezionare il colon in reto attraverso uno strumento che si chiama colonoscopio, un tubo flessibile con un diametro di circa un centimetro che monta una telecamera sulla punta che consente di ispezionare visivamente tutti i segmenti colici. Nel caso di reperto di polipo o tumore vero e proprio consente di eseguire dei prelievi bioptici da inviare per esame istologico. Post-diagnosi di tumore confermata dall'esame istologico è importante procedere alla stadiazione del tumore. C'è una batteria di esami che devono necessariamente essere eseguiti. Il primo esame è un attac torace-addome con mezzo di contrasto, esame fondamentale per escludere la presenza concomitante di lesioni metastatiche, principalmente a due organi i quali fegato e polmone. Il passo successivo è quello di eseguire una risonanza magnetica della pelvi che ha come scopo quello di studiare l'estensione locale del tumore, quindi l'infiltrazione dei vari strati della parete rettale, l'infiltrazione di eventuali organi viciniori, la presenza o meno di linfoadenopatie sospette in senso patologico. L'ultimo esame che viene eseguito per completare la stadiazione è l'ecoendoscopia, un'ecografia che viene condotta per via transanale ed è importante anche questa per studiare l'interessamento dei vari strati della parete rettale, la presenza di linfonodi ingrossati di volume. Quest'ultimo è un esame complementare alla risonanza magnetica e riveste una particolare importanza nel caso di piccole lesioni che possono essere passibili di un trattamento chirurgico locale. Vi sono poi degli esami cosiddetti di terzo livello che vengono utilizzati nel caso in cui vi siano dubbi su lesioni metastatiche. Si tratta della TAC-PET e dell'ecografia dell'addome con mezzo di contrasto. A tutt'oggi la chirurgia resta l'arma principale a nostra disposizione per la cura del cancro del retto. Negli stadi iniziali di tumore si può procedere d'emblè all'intervento chirurgico. Nei casi avanzati, cioè nei casi in cui il tumore infiltra a tutto spessore le pareti del retto e sconfina nel grasso perirettale o nel caso vi siano degli linfonodi aumentati di volume e quindi da considerare patologici si propone al paziente un trattamento cosiddetto neoadiuvante. Il trattamento consiste in chemioterapia e chemioradioterapia che precede l'intervento chirurgico. Nella maggior parte dei pazienti sottoposti a trattamento neoadiuvante, chemioradioterapico si ha una riduzione del volume del tumore. In circa il 20% dei casi si ha addirittura una scomparsa del tumore stesso. e in questo caso solo però all'interno di rigidi protocolli approvati dai comitati etici siamo autorizzati a non sottoporre il paziente ad intervento chirurgico ma a tenerlo attentamente monitorato. Nei casi in cui si debba procedere ad intervento chirurgico nel nostro centro ormai la tecnica utilizzata in più del 90% dei casi è la cosiddetta tecnica mini-invasiva laparoscopica che prevede di effettuare l'intervento chirurgico attraverso piccole incisioni cutanee. È importante garantire al paziente il rispetto dei criteri oncologici. In termini di vantaggi legati alla chirurgia mini-invasiva noi parliamo di minor dolore post-operatorio più rapida ripresa dell'alimentazione e della canalizzazione minor degenza post-operatoria e quindi un più rapido rientro alla normale attività. Talvolta al termine dell'intervento è necessario eseguire una deviazione delle feci mediante il confezionamento di un'astomia si applica il cosiddetto sacchetto. Spesso però si tratta di una deviazione solamente temporanea che viene abolita nel giro di pochi mesi. Nell'ambito della mini-invasività bisogna segnalare quelle tecniche di asportazione del tumore che vengono eseguite per via transanale. In questi casi non si procede all'asportazione del retto ma esclusivamente all'escissione locale del tumore. È un tipo di trattamento che va riservato esclusivamente a tumori di piccole dimensioni ed in questo caso è ancora più importante procedere ad un accurato studio preoperatorio della neoplasia in modo da definirne i criteri di resecabilità per via transanale. Dopo la dimissione, quindi dopo l'intervento chirurgico e il ricovero ospedaliero, si attende all'esame istologico. L'esame istologico definitivo è il momento chiave per decidere il successivo iter terapeutico del paziente e quindi il paziente può essere avviato ad ulteriore terapia chemioterapica quasi sempre quindi a un trattamento adiuvante oppure esclusivamente a un follow-up quindi a una serie di controlli clinici e strumentali che solitamente vengono continuati per 5 anni con una frequenza che va via via diminuendo nel corso del tempo. Lo scopo di questi controlli è quello di diagnosticare in tempi rapidi l'insorgenza di possibili metastasi o locali o a distanza sulle quali poi è possibile reintervenire o chirurgicamente o con ulteriori cicli di chemioterapia. In ambito oncologico parliamo sempre di prevenzione secondaria mirata cioè all'eliminazione o quantomeno alla riduzione dei fattori di rischio. Fattori di rischio che abbiamo già precedentemente analizzato. sottolineiamo l'importanza di una regolare attività fisica di un controllo del peso dell'eliminazione del fumo e l'importanza della dieta una dieta ricca di fibre ricca di vitamina D e a scarso introito di carni rosse, zuccheri raffinati e grassi di origine animale. E' importante sottolineare l'importanza della diagnosi precoce e quindi l'adesione ai programmi di screening mediante la ricerca del sangue occulto nell'età più a rischio e nelle classi di popolazione sempre più a rischio di sviluppare un tumore del retto. Grazie a tutti.